Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata. Oggi vorrei parlarvi dei migliori 5 sub che utilizzano il famosissimo movimento ETA 2824 oppure uno dei suoi cloni. Come sapete io sono molto in disaccordo con i miei colleghi influencer, youtuber, imprenditori che tutte le volte che esce un brand nuovissimo che utilizza un 2824 oppure un suo clone come il Sellita 200 gridano al miracolo. Dicano ma come è possibile comprare un orologio da 300-400 euro con questo ETA 2824? Naturalmente tutti sappiamo che questo ETA 2824 o un suo clone lo si trova a prezzi bassissimi naturalmente perché ha dei numeri paurosi in più la ETA è stata fino all'altro giorno ed anche oggi in parte è obbligata a vendere a chiunque a prezzi calmierati per cui non c'è nessun tipo di miracolo è soltanto una situazione nella quale il gruppo swatch quindi ETA di cui fa parte si è trovata in una situazione di monopolio ed è stata obbligata dal governo svizzero a dare questi movimenti a chiunque anche se fosse nato il giorno anche un'azienda nata il giorno dopo. Detto questo siccome a me questi ETA 2824 sono diventati ormai cioè non ne posso più di vederli perché naturalmente cambia la forma dell'orologio fra l'altro orologi orologi anonimi orologi che non solo non hanno qualità non hanno cioè non ci sono in primis non c'è qualità poi non hanno neanche una personalità l'unica cosa di positivo è questo movimento che però viene fuori proprio perché c'è questa situazione appunto di monopolio. Io oggi invece vorrei parlarvi di quelli che secondo me sono veramente gli orologi che io stesso infatti in un caso l'ho acquistato che io stesso comprerei acquisterei e orologi che montano il 2824 ecco dovete sapere che il 2824 c'è innanzitutto in quattro versioni ma oggi vi dirò qualcosa di nuovo questo lo sapete tutti c'è lo standard e l'amore il top e il top certificate allora il top e il top certificate praticamente sono identici soltanto che uno è stato portato da un ente esterno per fare la certificazione. La differenza grossa non è tra lo standard e l'elaboré ma la differenza è fra l'elaboré e il top. Quello che cambia all'interno del movimento che poi è lo stesso sono la molla di ricarica, abbiamo il sistema di protezione dall'anti shock e poi il bilanciere ecco quello naturalmente varia per cui la molla del bilanciere varia per cui è chiaro che anche le performance variano di molto. Dopodiché ci sono degli elaboré che hanno il sistema IncaBlock che hanno magari il top però ecco siamo nel insomma è anche un po più variegato insomma di quattro di quattro gradi in realtà ma tutti questi orologi qui di cui vi dirò io non sono convinto che ci abbiano il top io ero soltanto la sicurezza ce l'avevo soltanto per quanto riguardava il Tudor il Black Bay quello praticamente che c'era quello di qualche anno fa che montava l'ESA 2824 che quello lì effettivamente c'aveva la versione top grade veramente questi altri io non ne sono assolutamente convinto. Quindi lasciamo perdere il discorso delle performance che sicuramente saranno performance buone ma non saranno esagerate come quelle come quelle dei movimenti certificati e comunque rimane un movimento assolutamente affidabile come voi sapete con delle buone performance. Io tra tutti questi movimenti non mi sento tra tutti questi orologi che ora vi andrò ad elencare non mi sento di fare delle particolari differenze perché nessuno di questi qui è particolarmente rifinito nessuno è certificato per cui non ecco assolutamente non vorrei entrare non mi sento ancora preparato per potervi dire ecco le differenze fra questi qui probabilmente non lo sarò neanche mai preparato perché assolutamente non me ne frega assolutamente nulla. Questi sono movimenti che sono assolutamente affidabili e sono stati creati in grandi in grandi quantità. Ora il motivo per il quale si possono andare si può andare a scegliere un movimento avere un ETA 2824 può avere anche il vantaggio per chi lo sfrutta per chi magari fa il sub in giro per il mondo di avere comunque sia un movimento che in tutto il mondo può essere riparato senza nessun tipo di senza nessun tipo di problema per cui anche avere un 2824 una persona che lo utilizza tutti i giorni può assolutamente avere un motivo una ragione di per sé non solo questo io lo dico ora prima che si avveri ma sono più che convinto nel futuro gli unici orologi tradizionali che si potranno riparare sono quelli che montano il 2824 lo so che vi ho sempre detto che in realtà quelli senza silicio si potranno sempre riparare questo è perché io ragiono in teoria poi la pratica è del tutto diversa perché quando si presenteranno i conti cioè nella teoria si potranno riparare ma poi quando al nipote quindi che al nipote della persona che aveva comprato l'orologio tradizionale ma particolare li presenteranno il conto per la riparazione lo terrà lì in un cassetto allora se vale avere come collezione come come da un punto di vista storico un orologio per quel motivo lì allora avrà un valore avrà un valore anche averlo lì nella cassetta che non che non funziona ma io dubito che moltissimi orologi compresi patek philippe compresi breghet tutti questi orologi in futuro andranno funzioneranno per centinaia di anni sono invece convinto che questi esa 2824 in una maniera o quell'altra andranno veramente per centinaia di anni perché di questi qui veramente si troveranno i si troveranno veramente pezzi di ricambio comunque questa chiusa la parentesi cominciamo con la nostra con la nostra classifica iniziamo subito dallo squale 15 21 50 atmos che io che io ho che io possiedo anzi tra l'altro farò vedere poi un video a breve che gli ho preso anche il bracciale in metallo tra l'altro una squale si è spostata anche in svizzera per cui c'è anche da pagare i dazzi una cosa e quell'altra mentre invece prima era a milano per cui non c'era da pagare neanche neanche nulla non so il motivo per il quale si siano spostati in svizzera penso che sia un motivo di non so di prestigio non so forse perché sono più vicini ai loro ai loro fornitori fatto sta che che questo è un fatto di cui bisogna prendere nota utilizzano il 2824 io il mio l'ho aperto per quello che era in movimento per cui non sono riuscito anche su questo argomento farò un video come riconoscere i non dico tutti i gradi ma perlomeno distinguere tra il top e le lavore che sarebbe grosso che sarebbe la grande differenza insomma la grande dicotomia tra i due tra i quattro gradi di di qualità dell'eta 2824 oggi vi posso dire che secondo me squale è un ottimo orologio viene braccialato 900 euro tra l'altro io ve lo consiglio anche prendetelo braccialato perché sennò poi dopo c'è da pagare insomma il doppio io lì per lì insomma ero anche un po anche per risparmiare l'ho presi anche perché non ero così convinto perché non l'avevo visto io l'ho preso insomma già qualche quattro o cinque anni fa non ne avevo mai visto uno in dal vero e sono rimasto invece veramente colpito perché l'orologio è fatto bene soprattutto la cassa è secondo me spettacolare è impermeabile 500 metri per cui c'è anche ottime performance viene criticato perché la luminescenza non è particolarmente brillante comunque sia vi posso dire che io la notte ce la leggo l'ora per cui la funzionalità ce l'ha squale dice perché vogliono essere far sembrare l'orologio vintage a me sinceramente io preferirei che avesse una luminescenza migliore però non credo neanche che uno non lo debba comprare perché non è così eccellente alla fine il suo lavoro lo fa un'altra critica che viene fatta sono gli indici applicati sono invece dipinti anche quelli lì richiamano un po il vintage io su quelli non ho assolutamente nulla da dire anche anche perché mi piacciono sinceramente gli indici dipinti certo va detto che oggi la tendenza moderna insomma gli ultimi sub hanno gli indici applicati insomma per cui quella è una possibilità che se ci fosse sarebbe gradita ma non anche di questo ecco sono credo sono gusti e comunque sia a me gli indici dipinti piacciono al di là di questo credo che lo squale 1521 ci abbia delle dimensioni ottime sia un orologio veramente c'è in tantissime varianti quadranti sono tantissimi colori e si può è veramente un bello orologio tant'è che l'ho tant'è che l'ho acquistato e non lo neanche insomma speriamo di no insomma se proprio non fossi obbligato ma vorrei appunto tenerlo perché è un ottimo orologio al secondo posto metto il sapete che sono un grande amante di doxa il sub 300t questo è un orologio che loro dicono che monti l'età 28 24 top grade sarà vero a me dalle dalle foto non ho non ne sono sicuro sinceramente siamo lì secondo me non è che diciamo così ci sia una grande differenza tra tra gli altri movimenti degli altri orologi di cui vi parlerò è un orologio che viene 1890 euro è un orologio sicuramente che c'ha una storia era l'orologio di dirk pit insomma il grande romanzo no di di avventura e ecco lui è un sub per cui naturalmente si abbina perfettamente no questo sub 300 questo doxa arancione è sinceramente un orologio di cui un giorno mi piacerebbe che un giorno mi piacerebbe comprare perché è veramente un pezzo iconico e a una questa forma no tono che insomma che è particolare un orologio sicuramente che fa parlare che fa parlare di sé c'è anche questo bracciale a chicchi di riso che si abbina secondo me perfettamente ecco sono come lo squale no cioè sono orologi molto utilitaristici molto strumenti ecco non sono bracciali ecco che si va lì si va a vedere come chiudono ecco la precisione no dei finali con la cassa cioè questi sono orologi sicuramente da sfruttare sono orologi sicuramente che robusti anche bracciali sono molto robusti un po' come era una volta rolex ecco questi hanno preso un po' il vorrebbero prendere un po' quelli che erano le posizioni di rolex prima che diventasse ecco prima dei ceramici prima che diventassero insomma andassero a finire ne chiamiamola così nell'alta orologeria che poi è alto orologeria solo di prezzo perché poi di fatto non è alta orologeria quindi doxa sicuramente c'è anche un altro primato credo che fosse la prima sia stata la prima primo orologio con la valvola della dell'elio insomma non sono sicurissimo di questo ma credo che ci abbia anche quel primato ma credo che fondamentalmente ecco essere l'orologio col quale dirk pitt abbia insomma no che in così tante avventure no sia proprio lui il c'è stato fatto anche un film su questo su questo personaggio credo che sono libri d'avventura che hanno venduto tantissimo e credo che sicuramente aiutino fondamentalmente quello che è sicuramente un orologio iconico un orologio molto molto particolare riconoscibile allora andiamo avanti come terza in terza posizione metto l'oris acquis date allora anche questo ha un eta 28 24 mi sembra che anche questo sia un elavore così da da vederlo oris monta anche c'è anche un comunque è molto più costoso un movimento suo che chiamano in house a dire la verità non pare neanche così esteticamente pare anche parecchio brutto io a quel punto lì sinceramente andrei sull'eta 28 24 piuttosto che quel che quel movimento lì che insomma ha senso fare un movimento un calibro in house se è un calibro particolare anche bello a vedersi altrimenti uno cioè può tranquillamente rimanere con il 28 24 qua ci aggiriamo sui sempre vicino e doxa doxa 1.890 euro qui l'oris ha qui dette 1.900 euro è un un orologio che io consiglierei più io l'ho visti dal vero e lo consiglierei più con il braccio il cinturino in gomma che poi è su misura proprio del dell'orologio perché secondo me lo lo alleggerisce un po è un orologio a parte che c'è in diverse dimensioni io però per quanto riguarda sub prenderei quelle grandi perché insomma il sub deve secondo me da un mio punto di vista essere anche grande ma insomma chi lo preferisce piccolo può prendere anche piccolo ma se uno decide di prenderlo grande piuttosto andrei sul sul cinturino in gomma prendere il bracciale in in acciaio secondo me rimane bello però insomma ci vuole anche gente di una certa presenza perché il lì diventa bello grosso cioè però un po tutti questi orologi diventano belli grossi ecco sono orologi utilitaristici sono orologi strumenti sono orologi sicuramente che servano per persone che fanno sport e che fanno insomma lavori anche professionalmente che fanno attività professionali nel mare oppure comunque all'aria aperta insomma per cui devono essere anche orologi robusti per cui oris acquistate sicuramente comunque sia si è creato una è rimasto fedele anche a una sua linea non sono mille anni che che viene fatto questo acquistate ma bisogna dire che sono perlomeno vent'anni quindici anni che ha sempre quella forma lì per cui è riuscito a crearsi con un certo sforzo ma ci è riuscito a crearsi una sua identità una sua forma una sua insomma particolarità nel nel design sebbene poi tutti subito naturalmente discendano come design dal submarinar oppure dal come volete voi da insomma dal 50 fatoms dal blan pan sono questi qui due no gli archetipi e però poi dopo naturalmente ci sono degli orologi fra cui tutti questi di cui vi dirò poi farò un altro video con altri orologi validissimi col 28 24 ma che sono chiamiamoli così omage non hanno ancora raggiunto un'identità propria questi invece ci sono riusciti e ecco e oris acquistate è uno di quelli che effettivamente bisogna dare atto all'oris e sicuramente ecco ci ha investito tanto per tanti anni è riuscita veramente a creare un design abbastanza stondato e poi gli ultimi sinceramente sono anche più belli anche come quadranti sono anche un pochino più eleganti naturalmente sono orologi super sportivi però che possono essere abbinati anche in situazioni più più eleganti no da james bond in poi da pierce brosnam in poi o diciamo anche prima il submarinar no è stato abbinato a anche a situazioni più eleganti per cui naturalmente insomma anche questo è un orologio che è diventato abbastanza versatile ecco naturalmente insomma per le occasioni eleganti se potete scegliete orologi orologi eleganti insomma però ecco questi sono comunque sia un particolare che va che va detto poi andiamo a un altro orologio famosissimo che è lo zin u1 questo monta un sellita 200 è un orologio che credo arrivi a mille metri di impermeabilità è veramente io l'ho visto dal vivo è molto utilitaristico anche questo è veramente uno strumento però anche questo qui è tantissimi anni che c'è non è mai cambiato ha una sua a questo quadrante nero mi sembra che ci abbia delle scritte rosse spesso perché poi ci sono tante versioni e c'è con la cassa anche in pvd credo insomma comunque trattata nera è un orologio particolare certo che è un certo che è un orologio che viene 2400 euro mille metri comunque di impermeabilità è veramente un orologio tecnico è un orologio sicuramente destinato a un certo certo genere di persone però è anche un orologio se volete se volete da intenditori perché non essendocene tanti io ne ho visto uno no ne ho visto più d'uno ma l'ho visto in giappone si può comprare su internet questo questo orologio così come doxa così come squale squale c'ha anche qualche rivenditore ma sono rivenditori che non sono almeno fino a qualche anno fa erano venditori di prodotti per prodotti per fare immersioni quindi non orologerie non so se è cambiato ora doxa lo si può comprare solo su internet da quello che ne so zin penso che si possa comprare solo su internet io a dir la verità in giappone ho trovato un negozio che lo vendeva per cui ecco questa zin è sicuramente una ecco un prodotto tedesco è sicuramente un'azienda famosa anche negli anni 70 era già famosa per produrre orologi molto molto tecnici e anche questo è assolutamente un orologio che io vorrei avere in in collezione ecco andiamo ora a quello che io metto per primo però tra insomma tra gli orologi che più forse mi piacerebbero è chiaro che come sapete il mio primo orologio di una certa importanza che avevo 12 anni 13 anni erano già cinque anni che stavo dietro agli orologi è un tagoyer per cui naturalmente qua vi metto il tagoyer acqua racer quello monta un età 2824 anche quello standard ecco neanche lawyer monta il top il prezzo è 2250 euro qui parliamo sempre di listino poi dopo magari vi faranno un po' di sconto ecco insomma poi sono cose che le vedrete le vedrete voi anche tagoyer è un anche l'acqua racer è un modello comunque sia che sono tanti anni che viene prodotto sono molto rimasti sempre molto fedeli a quello che era il design iniziale è un orologio anche abbastanza elegante è un orologio sicuramente che c'è anche delle performance io ho visto la luminescenza è ottima è un orologio ottimo nel senso che è un orologio anche quello da sfruttare è un orologio anche quello da indossare tutti i giorni tutti questi orologi di cui vi ho parlato sono orologi da sfruttare poi naturalmente ognuno può anche collezionarli e può anche naturalmente conservarli in un cassetto io non ho niente io non ho niente in contrario e tirarli fuori magari nelle occasioni particolari però questi sono orologi tutti questi cinque orologi qua fatti per essere utilizzati fatti per essere veramente sfruttati al cento per cento sono tutti molto molto resistenti hanno tutti un'impermeabilità esagerata questo tagoiere acquareser è anche direi fra tutti fra tutti a parte l'horis acquist che ci si avvicina molto ci si avvicina molto però direi che questo tagoiere è anche quello forse un pochino più elegante ora è riuscito no in qualche maniera anche la forma della la forma della della ghiera la forma della cassa è riuscito a dare un suo a dare una sua interpretazione del sub poi è vero viene molto criticato ma è una sciocchezza viene molto criticato per questo età 28 24 ma il motivo cioè il motivo che sta dietro questa critica è un motivo stupido è un motivo di chi non conosce la storia di chi non conosce l'orologeria perché è chiaro che chi dice ma io perché devo comprare un orologio che c'ha dentro un movimento che ce l'hanno anche gli orologi da 400 500 euro che i miei colleghi imprenditori youtuber influencer e portano avanti e cercano insomma di spingere in tutti i modi le maniere il motivo è che c'è stato un motivo politico cioè il governo svizzero ha obbligato le aziende appunto a fare a produrre e a dare a obbligare appunto a fornire tutti questi tutti questi personaggi naturalmente che tutte queste aziende nate magari il giorno prima che hanno svilito questo età 28 24 e poi anche tutti i giorni escano video e video di tutti questi 28 24 che sinceramente annoiano annoiano anche annoiano anche me ma va detto che questo acqua racer io sono naturalmente ve lo dico sono di parte perché quando te compri un orologio che ancora gira come il mio il mio tagoyer di quando avevo 14 anni che te lo porti dietro per così tanti anni e li cambi soltanto la pila è naturale che si innesca diciamo così un rapporto con l'azienda che mi porta sicuramente ad apprezzare ecco tagoyer so benissimo che la voyera ha fatto tantissime minchiate da un punto di vista commerciale da un punto di vista sicuramente della comunicazione da un punto di vista sicuramente di come ha gestito il mercato negli ultimi tempi però devo anche dire che tagoyer è un'azienda che si è buttata molto che ha investito molto che ha fatto e che sta cercando insomma anche una sua identità in qualche modo in qualche caso c'è anche riuscita io credo che questo tagoyer acqua racer sia uno di questi casi un caso positivo un caso sicuramente dove dove oyer ha fatto un ottimo un ottimo lavoro questo è quello che penso io dopodiché farò un altro video su quelli su quegli orologi che montano eta 28 24 oppure cloni ma che invece non hanno un proprio secondo me una propria un proprio design tutti invece questi cinque qui hanno un design proprio un'idea propria che si sono creati magari negli anni 70 qualcuno magari dopo però sono ecco andavano messi da loro perché sicuramente hanno fatto una hanno avuto una costanza hanno fatto degli investimenti hanno insomma anche nel tempo e ragionare nel tempo non è assolutamente cosa facile perché le aziende guardano investano e poi vogliono subito avere i ricavi avere subito cotto e mangiato il giorno dopo per cui io credo che queste aziende debbano essere premiate debbano essere anche valorizzate proprio perché invece hanno portato un discorso di lungo di lungo respiro un progetto di lungo respiro e oggi credo che ne stiano ne stiano beneficiando o comunque stiano rimanendo in piedi perché il momento è veramente difficile per l'orologeria tradizionale io spero che questo video vi sia stato di aiuto che vi sia piaciuto come sempre mettete un like se vi è piaciuto se lo ritenete opportuno iscrivetevi al canale noi ci vediamo alla prossima puntata ciao a tutti